Per ora l'effetto domino della caduta di Mubarak è solo a livello delle manifestazioni. Qui siamo ad Amman, in Giordania, dove migliaia di persone hanno raggiunto l'ambasciata del Cairo per manifestare solidarietà al popolo egiziano. In un clima di festa, i dimostranti si sono detti sicuri che il cambiamento non potrà essere fermato e che una nuova fase storica si sta aprendo. Cortei e slogan anti-Mubarak anche a Sanaa, capitale dello Yemen, dove il vento di rivolta visto all'opera in Tunisia ed Egitto era stato previsto da politici e analisti. Per oggi è in agenda una riunione d'urgenza tra i vertici militari, i leaders politici e il presidente Saleh, che è al potere da 32 anni. Ed è festa anche a Beirut, in Libano. Hezbollah e il partito politico vicino agli sciiti ha salutato la partenza di Mubarak come una vittoria storica e onorevole. Hezbollah, che ha nel sud la sua roccaforte, ha sempre espresso la propria contrarietà al trattato di pace tra Egitto e Israele del 1979.